segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te allora brambilla a proposito del posto vacante di gelataia perché quella di prima era troppo generosa è ancora vacante una volenterosa perché mi pare che tutto manchi a francesca tranne che la cultura del lavoro potrebbe eventualmente trovare un posto da lei se ne può parlare se volentieri ovviamente per lei trasferirsi da napoli a milano comporterebbe dei costi e anche di fronte a una mia offerta di lavoro anche importante questo per lei potrebbe come dire ridurre il significato di uno stipendio più chiaro significativo e più importante però io dico francesco una cosa mi permetta magnani francesca una cosa la voglio fare però con te no ti pago io l'aereo vieni a milano a trovarmi devi imparare a venderti meglio devi imparare a rapportarti con gli imprenditori in modo completamente diverso no questa è la mia proposta no io ti pago l'aereo vieni a milano a trovarmi ma che significa noi mi seguiremo però mi pare che devi rapportare la capacità di comunicare anche nei nuovi strumenti di comunicazione sociale come i social francesca abbia dimostrato di avercela e di saperli maneggiare molto bene e con la conferma ne sono i tanti follower che ha voglio che